Le cose che più mi piacciono sono cose utili, quindi la mia tornitura è molto, diciamo che deve rispettare la funzione d'uso, non faccio cose strane, non faccio cose con buchi, con cortecce, io sono un po' un tornitore alla vecchia maniera, cerco di fare cose che abbiano ancora un po' di senso e in questo voglio essere preciso, io non sono un artista, io sono un tornitore, quindi non vado a cercare cose troppo complicate. La fiera per un piccolo artigiano come me è una bella vetrina soprattutto, perché è un modo per farsi vedere, nei nostri piccoli buchi nessuno ci viene a cercare, quindi è una vetrina e poi è un raduno di amici, di ex clienti o clienti futuri, insomma per clienti e poi anche qualche vendita, non dispiace insomma avendo qualcosa di... comunque diciamo che più che altro per un piccolo artigiano è una bella vetrina.